buongiorno a tutti eccoci arrivati al quarto ed ultimo appuntamento con tutankhamon e la sua tomba il suo corredo funerario gli oggetti che vedremo questa sera una parte del tutto naturalmente abbiamo detto che nella tomba sono trovati circa 6.000 oggetti noi ne esaminiamo 150 poco più quindi d'altra parte neanche tutti gli oggetti sono mai stati esposti perché lo spazio che c'era al museo egizio fino adesso era piccolo dicono che nella nuova esposizione quella che ci sarà gem de gran egipian museum di esporano tutti dubito quelli espongano tutti perché non ha senso esporre delle scatole eh senza nessuna decorazione senza però insomma molti di più rispetto a quelli che è sicuramente in in maniera molto più più elegante insomma adesso erano veramente ammucchiati molte molte cose del tesoro. Partiamo che la solita guerra contro il tempo quindi dire se non si vede va bene ecco qui il corredo funerario di Tutankhamun l'altra volta abbiamo visto alcuni oggetti soprattutto mobiglia letti sedie troni scatole e per la maggior parte probabilmente quegli oggetti facevano parte di eh superlettili che il faraone utilizzava già in vita. Mh quest quest'oggi soprattutto nella seconda parte vedremo eh oggetti più legati alla alla suo corredo funerale in senso stretto. Qua siamo ancora nel misto mare. Le insieme della regalità sono il flaggello e il pastorale pastorale questo e questo che impugnavano sempre erano i simboli di Osiride e anche i simboli del faraone leca e necaca. Erano eh oggetti eh che richiamavano gli oggetti del pastore. Non a caso il il faraone era il pastore del suo popolo. Quindi eh. questo era un altro simbolo del potere lo scetto sechem. Questo sarebbe stata una prerogativa legale. Naturalmente eh questo questo scetto lo troviamo in mano anche ai nobili ma eh questo era concesso loro solo nelle tombe. Quindi in vita di sicuramente sicuramente un nobile non poteva utilizzare questo scetto ma nelle tombe eh li concedi veniva a loro concesso di essere rappresentati con questo scetto in mano. La scritta eh è un richiamo alla Nefer Necher. Eccolo qua Nefer Necher il dio buono l'amato dai volti del minore di Aton e quindi il neb che perurà che è il nome di incoronazione abbiamo visto il Tancamon. Aspetta volevo dire qualcosa d'altro ma non mi ricordo più. Beh non importa. Casomai se mi viene in mente lo dico dopo. Un altro simbolo eh di regalità era il flabello. Questi grandi ventagli che venivano agitati eh eh vicino al faraone. Il personaggio il porta il porta ventaglio alla destra del del faraone era un personaggio importantissimo come del resto il suo porta sandali. Naturalmente qui c'era tutta una serie di piume di struzzo che sono andate perdute perché probabilmente sono decomposte. Mentre miracolosamente in quest'altro piccolo ventaglio vedete ecco le piume si sono mantenute. In tutti e due i casi sia in questo piccolo che verosimilmente era un oggetto che lui utilizzava individualmente mentre questo veniva agitato da da una persona apposta insomma. Vedete che c'è dappertutto il nome Tancamon. Il nome e il nome i cartigli con i nomi di incoronazione e di nascita li troviamo dappertutto. Oggetti tantissimi sono stati trovati anelli. Gli anelli sono di varia di varia foggia. In questo caso riportano vedete all'interno di cartigli delle divinità oppure questo lo analizzeremo nel dettaglio. Qui c'è Amon, qui c'è Thoth, vedete nella sua forma di Ibis o nella sua forma di Babuino. Thoth aveva queste due forme o l'Ibis, l'uccello Ibis oppure la scimmia Babuino. In ogni caso vedete che sopra la testa porta il suo simbolo che è il crescente lunare e il luna piena. Quindi era un dio lunare. Ecco questo anello lo guardiamo nel dettaglio, vediamo cosa ci hanno fatto stare in questo piccolissimo spazio, in questo piccolissimo oggetto. Qui vedete questi tre anelli d'ambra che sono tenuti insieme da un filo d'oro legato, che gira 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 e li blocca questi tre anelli d'ambra e sopra c'è una placca a forma di cartiglio. Sopra a sostenere la placca ci sono due mazzetti di fiori che rappresentano il fiore del papiro al centro, è fatto di feldspato, e due papaveri e sono rossi. Quindi siamo di fronte a dei simboli di rinascita. Al centro c'è lo scarabeo e anche lo scarabeo sappiamo che il simbolo di rinascita rappresentava il sole nascente. Quindi lo scarabeo è di Slapislazuli e porta la corona Atef. Questa corona composita vedete è una delle corone tipiche di Osiride. È la corona al centro, assomiglia a quella dell'Alto Egitto e poi attorno sono delle piume e gli urei. Qui dobbiamo andare un po' sveltini, d'altra parte delle robe ne abbiamo tante da vedere. Dietro lo scarabeo, a protezione di questo scarabeo, c'è un falco, vedete questo falco con le ali aperte che accoglie lo scarabeo e sopra la testa c'è il disco solare, quindi verosimilmente si tratta di Ra Aracti. Di bracciali, tutto un camon ne aveva tantissimi, come del resto tanti anelli, come del resto tante collane, ma comunque i bracciali ne aveva molti in dosso, quindi aveva molti sulle braccia, già sulla mummia, quindi probabilmente era un tipo di ornamento che amava molto. Vediamo questo, è piccolino, molto piccolo, vedete che il diametro è 5-6 cm ed oro naturalmente, con sopra uno scarabeo, scarabeo è ricorrente come simbolo, e anche qua troviamo i fiorellini simbolo di rinascita. Gli oggetti non erano solo oggetti belli da portare, ma normalmente contenevano anche dei simboli, contenevano anche delle rappresentazioni di oggetti magico-religiosi, in questo caso vedete il fermaglio è rappresentato dall'occhio Ujat, l'occhio di Horus, è uno degli amuleti più potenti, l'occhio che Horus aveva perso nella battaglia con Seth, ma dice tutta la storia di Osiride, di Iside, del loro figlio Horus, della lotta di Horus per l'affermazione del diritto rispetto al caos che voleva portare Seth, ma tutta una storia che noi abbiamo visto in questi anni quando abbiamo fatto la religiosità, ma che oggi ovviamente dobbiamo saltare. Vedete il corpo è fatto di perline, d'oro e di pietre semipreziose, ma semplicemente anche di vetro. Una delle cose che ho detto di sicuro, non so se in questa occasione o in altre occasioni, è che l'accostamento dei materiali non era necessariamente tra materiali preziosi, l'importante è che il risultato estetico finale fosse gradevole e di grande effetto, quindi venivano accostati materiali preziosi come poteva essere l'oro, con pietre semipreziose, pietre dure come il turchese, come il lapislazoli, ma anche con faianze, quindi con delle ceramiche colorate o dei vetri colorati. Ecco, in questo caso il fermaglio è rappresentato dallo scarbeo che si trova un po' dappertutto e il corpo del bracciale è formato da oro, elettro e pasta vitre, ecco come dicevo prima, pasta vitre, alabastro che è una pietra, lapislazoli. L'elettro è un materiale, è una lega sostanzialmente di oro e argento che normalmente è ottenuta artificialmente ma in natura si trova. Ora dire se questa che è stata utilizzata qua faceva parte di quella ritrovate così o se l'hanno fatta loro questo non ci è dato sapere. In ogni caso l'elettro è un materiale che risulta brillante come l'oro, avendo dentro una parte d'argento il giallo dell'oro è un po' mitigato quindi esce un senape, poi vedremo degli oggetti probabilmente di elettro. Ecco, in quest'altro scarabeo il fermaglio è diametista, ancora lo scarabeo diametista con la granulazione. La granulazione la vediamo nella prossima diapositiva che si vede meglio, è una tecnica antichissima che gli etruschi per esempio hanno portato a un livello di perfezione in arriva non mai più eguagliata e che oggi è difficile da ottenere. Si tratta di una forma di saldatura di piccoli granuli d'oro su una base d'oro logicamente e è il materiale che viene utilizzato per questa saldatura che non sono ancora stati in grado di identificare con esattezza. Quindi tanto più è efficace questa saldatura tanto migliore risultato finale. Ecco, vedete qua si vede meglio questi piccoli granini d'oro che sono saldati alla piastra e danno il risultato. Anche qua simboli a non finire, lo scarabeo rappresenta il sole, poi il sole rappresentato anche al suo zenith come Ra, quindi come Kepri e come Ra. Poi c'è il simbolo Nefer, Nefer è il simbolo della perfezione, Neb è il simbolo che sta per signore ma sta anche per tutto, quindi è Ra signore della perfezione, Ra signore della perfezione. È possibile, ma una lettura, cioè la lettura di qualsiasi cosa che si trova in Egitto è sempre a livelli, a più di un livello. Il primo è, ah che bello che l'è, il secondo bisogna andarci dentro e capire cosa volevano dirci con queste cose. Questo bracciale è unico nel suo genere nel senso che qui non c'è nessuna simbologia, almeno nota o compresa o capita. Quello che si può vedere invece è la finezza della lavorazione. Questi sono tutti tubicini d'oro o ciondolini d'oro e poi la granulazione, vediamo un po' qui, ecco vedete questo lavoro enorme di granulazione. Mi sembrava di aver messo un ingrandimento, invece evidentemente non ce l'ho messo. I pettorali e i collane, anche i pettorali e i collane erano numerosissimi. I pettorali erano sempre composti di due parti, la parte davanti, quella più bella, più evidente, più carica di significati e un contrappeso che andava dietro. Il contrappeso serviva a spostare il peso dal collo, se una collana sarebbe stata appesa al collo e molto spesso sono pesanti le collane, lo spostava sulle spalle perché le due tiracche spostavano il peso sulle spalle, un po' davanti e un po' dietro. Questo gioiello altro non è se non il nome del faraone, Neb, Keperu, questo è Keper, al plurale perché queste sono le stanghette del plurale, Ra, quindi potente è il divenire di Ra. Quest'altro ce lo guardiamo anche, insomma sono oggetti da guardare perché sono di una bellezza estrema. Ecco, qui c'è una storia anche per questo scarabeo che da analisi effettuate risulta essere fatto di silica glass. Silica glass è un materiale che si è formato, non mi ricordo più, nel Pleistocene o ancora prima, comunque nella notte dei tempi una meteora, un enorme meteora è caduta nel deserto, l'impatto, la grande temperatura che ha determinato questo impatto ha fuso la sabbia, quindi il silicio contenuto nella sabbia e si è formato questo vetro, naturale. Questo silica glass che è trasparentissimo e naturalmente è là nel deserto in un diametro di parecchi chilometri perché l'impatto ha determinato una dispersione di questo materiale per parecchi chilometri. Teoricamente dovrebbe restare là, però molto spesso il passante se ne piglia un pezzettino, un po' alla volta come spariscono le dune sparirà anche il silica glass. Ecco qua. Nel disco sopra il crescente lunare, eccolo qua, c'è Thoth, vedete, Thoth e il faraone. Tutti questi hanno sopra la testa il simbolo della luna, quindi il simbolo del momento notturno, la dualità dell'Egitto, il giorno, la notte, il sole, la luna, sono sempre presenti con la stessa, con pare dignità. Quest'altro pettorale troviamo sempre il solito scarabeo e qui in questo caso lo scarabeo del cuore. Vi ricordatevi, ho detto l'altra volta, che tutti gli organi interni della mummia erano portati fuori e conservati a parte nei vasi canopi, tranne il cuore che veniva rimesso al suo posto. Il cuore che abbiamo visto essere la sede di tutte le emozioni, della conoscenza, del sapere, quindi quello che per noi oggi è il cervello. Quindi era la sede dell'anima, tutte le emozioni erano lì, tutto il sapere era lì, quindi il cuore veniva rimesso al suo posto, ma vicino al cuore normalmente veniva messo uno scarabeo con una formula magica. Vi ricordate la pesatura del cuore? Da una parte, su un piatto della bilancia, l'anforetta è il simbolo del cuore, il vasetto è il simbolo del cuore e sull'altro la piuma di Maat. Il cuore doveva quindi fare un'operazione in quel momento lì importantissima per superare quella prova e accedere al mondo dell'Algirà. proprio per questo sulla parte sotto di questi scarabèi del cuore c'è una formula che dice oh cuore di mia madre, fai in modo che io non dica cose che mi faranno del male, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente era una preghiera per poter superare questa importantissima prova. adesso guardatevi la finezza di esecuzione di questa rappresentazione di Iside che è in turchese con... guardate il vestito questo vestito a reticella lo si trova rappresentato su moltissime divinità e i dettagli lasciano sorpresi perché bisogna pensare all'attrezzatura della quale disponevano questi artigiani di 4-5 mila anni fa. Avevano attrezzi molto semplici, utilizzavano dei trapani da collo, però erano cose fatte a mano, scalpelli, ma il ferro non lo asedero quindi avevano scalpelli di bronzo, ma bravi, troppo bravi. Ecco, qui vediamo bene quel discorso che dicevo prima, quindi il pendente, la parte davanti e il contrappeso dietro e queste due tiracche che appoggiavano sulle spalle. Queste due tiracche contengono tutta una serie di simboli. vedete questi tiracche sono composti da una sequenza di amuleti potentissimi, il pilastro Jed, la spina dorsale di Osiride che rappresentava la stabilità, l'Ank che rappresentava la vita, il Neb che rappresentava tutto sempre, quindi vita sempre e stabilità e il nodo, cosiddetto il nodo di Isri che rappresenta la magia perché la magia, l'intervento divino doveva essere sempre presente nella vita degli egizi. Il pendente è composto dalla barca lunare, le due rappresentazioni di Thoth come babbuino e Kepri, il sole nascente, con Ra che è sopra, quindi il sole nascente e il sole allo zenith. Poi ci sono anche i simboli del sed, adesso li vediamo. Quindi il Kepri è posto sulla barca, sopra il simbolo shen, shen lo vediamo adesso meglio, eccolo qua, è questo cerchio che è il papà del cartiglio, il cartiglio dove è messo dentro il nome del faraone si chiama shen, ed è altro che uno shen che rappresenta un circolo di corda, quindi un qualcosa che non finisce mai perché è un cerchio che si ripete, quindi rappresenta il tempo che trascorre e continua a trascorrere e il cartiglio era questo che conteneva il nome del faraone. La simbologia è spinta al massimo. Questo è qui, è qui, è una delle rappresentazioni che venite utilizzate nel festival sed, quella cerimonia che si ripeteva ad affermare il potere e la regalità e quindi la legittimità di un faraone a restare al suo posto. Anche in questo caso, quindi il pendente è contrappeso e qui vediamo l'elettro che dicevo prima, ecco, vedete, il pendente è fatto dalla barca lunare con sopra la luna il quarto crescente e la luna piena. E naturalmente anche qua vedete il papiro, scusate, quindi questi papiri aperti e in bocciolo che rappresentano naturalmente il simbolo di vita e di rinascita. In questo pendente troviamo l'occhio di Oros, uno dei potenti talismani accompagnato dal cobra che è la dea del basso Egitto, il nord, con la corona rossa del basso Egitto appunto, la dea cobra e la dea avvoltoio Necbet con la corona dell'alto Egitto. L'abbiamo sempre detto, l'alto e il basso Egitto, le due terre, il papiro e il giglio, l'avvoltoio e il cobra, questa dualità che accompagna sempre la vita degli egiziani, il bene e il male, il giorno e la notte, l'uno non può esistere senza l'altro. Ma perché possa affermarsi il bene bisogna in una qualche forma combattere il male ma rispettarlo. Cioè rispettare qualsiasi forma presente nel mondo dell'universo. Ecco queste le lascio così senza commenti. Gli orecchini. Gli orecchini in questo caso erano pesantissimi. Guardate solo qui, questo è quello che si infila nell'orecchio, è grosso come un mignolo. Quindi nella rappresentazione di Tancamo sia nella maschera funeraria ma anche nella testina piccola quella su cui ci sarebbe a raccontare una storia e c'è un amico che mi stimola e mi dice racconta questo, racconta questo, però non abbiamo tempo di poterlo fare. Anyway, la maschera funeraria apporta evidenti i buchi in cui venivano infilati gli orecchini però sfido io a portare questi orecchini per più di 5 minuti perché peseranno alcuni etti quindi a un certo punto sarebbe finito male. In ogni caso vedete quanta lavorazione c'è in questi orecchini. Vediamo un altro. Ecco qua, con delle orecchie. Se ci fermiamo a guardarne uno, vedete gli incastri esatti di queste pietre dure su questo letto di oro? Anche qua vedete, sono degli uccelli che hanno sempre in mano, normalmente, cioè in mano, nella zampa hanno sempre questo simbolo di Shen che dicevo prima, questo simbolo che è simbolo di durata, di durata nel tempo. Questi orecchini sono anche questi bellissimi, guardate la lavorazione, e di particolare c'è anche in questo caso la granulazione che è fatta su se attaccata, incollata, saldata a pietre semiprezioni. Quando dico saldatura non dobbiamo pensare alla saldatura quella fatta col cannello, ovvero quella fatta con l'ossigeno a temperatura, è una saldatura chimica, quindi è un qualcosa di chimico che incolla, la saldatura è un più, sono incollate, non saldate. Ecco, in questo caso questi grandi cogliè erano molto flessibili perché non erano le parti saldate una all'altra, ma erano tenute insieme con dei fili. Eccoli qua, vedete. A quel punto là, questo qua, era un insieme estremamente morbido e anche leggero, ma quando dicevo che per rimettere a posto tutto quello che ha trovato Howard Carter ha impiegato quello che ha impiegato, ecco, e questa roba qua naturalmente era tutta smontata perché i fili erano marci e quindi ha dovuto fotografarli, catalogarli, disegnarli e poi ricomporli. Gli amuletti, li abbiamo già visti questi amuletti qua, nella collana, questo è il pilastro Jed che è della stabilità, l'Ankh e il nodo di Iside che rappresenta la magia. Iside come altra divinità era chiamata fra l'altro la grande maga. Religione e magia non è che avessero una distinzione così netta. Il benù, l'airone, rappresenta la fenice, cioè quell'uccello che nasce dalle proprie seneri, anche questo era simbolo quindi di durata, di stabilità, di ripetersi, del ripetersi continuo, quel giorno che tutti i giorni nasceva e che rappresentava la... mamma mia sono in ritardo stamattina, il D88, il D88 è questo, non era una mia affermazione. L'apparato funerario, questi oggetti che vediamo adesso, alcuni velocemente e altri ci fermeremo un attimo di più, sono mobili e oggetti che sono stati fabbricati appositamente per il viaggio ultra terreno del Faraone. Quello che abbiamo visto fino ad ora no, nel senso che poteva essere anche robe che utilizzava in vita. Questi due sarcofagi, uno dentro l'altro, contenevano una statuina d'oro del re e una ciocca di capelli. Probabilmente era una ciocca di capelli della nonna. Vi ricordate che hanno fatto l'esame del DNA per determinare la discendenza di Tancamon? Una delle mummie investigate sta quella di Tie, che era la nonna di Tancamon, la moglie di Amenhotep III. La elder lady, quella che ha dei capelli lunghissimi, che arrivano fin sulle spalle. Dei capelli sono quelle cose che si conservano anche dopo anni e anni, in questo caso dopo millenni. I letti funerari, quindi questi, a differenza di quei due che abbiamo visto l'altra volta, non sono letti su cui il Faraone dormiva, questi sono semplicemente letti funerari, letti cerimoniali. Rappresentano delle divinità, sappiamo di che divinità si tratta perché c'è scritto, perché dopo il loro aspetto invece non è esattamente quello tradizionale, quello classico. In questo caso Mehet Wurert dovrebbe essere una vacca, invece rappresentata come leone. In questo caso Amit, l'abbiamo visto, Amit è il divoratore, quello che mangia l'anima se non dice la verità quando fa la confessione negativa. In questo caso Amit dovrebbe avere testa di cocodrillo, faccia da cocodrillo, la testa della craniera del leone, il corpo dell'ipopotamo, qua invece ha la faccia dell'ipopotamo. Comunque c'è scritto, quindi non ci si sbaglia. Questa è Iside Mehet. Mehet è una dea che viene spesso associata con Iside, perché il concetto base è che le divinità femminili erano tutte e molte vicine una all'altra e in ogni caso rappresentavano il concetto di dea madre. Questo era il concetto di base. Dalla camera funeraria si passa alla stanza cosiddetta del tesoro. Lì c'era Anubi che faceva come da guardia, aveva una pezza di lino sopra che oggi è andata perduta, eccolo qua restaurato, sopra il suo santuario. All'interno c'erano tutta una serie di armadietti all'interno dei quali furono trovate delle statuine. La maggior parte rappresentano Tutankhamun, altre rappresentano delle divinità. Tutte erano vestite, nel senso che avevano un drappo di lino, anche quello perduto. Non viene oggi esposto, eccole qua. Le statuine, alcune di queste statuine sono queste. Questa era stata rubata quando nel 2011 hanno assaltato il museo Egizio, poi fortunatamente è stata ritrovata, restaurata. Adesso non c'è più al museo di Piazza Harir, perché hanno già portato tutto al grande Gipion Museum, chissà quando li vedremo, perché continuano a rimandare. È dal 2014 che rimandano l'apertura. Vabbè, c'è stato successo qualcosa nel frattempo, ma comunque speriamo. Gli Ushabti sono una cosa importantissima nel corredo funerario di chiunque. Si trovano a decine nelle tombe, anche le tombe di persone non reali come Tankhamun, ma si trovano a decine. Gli Ushabti vuol dire quelli che rispondono. Quando il defunto, nell'aldilà, doveva svolgere i propri compiti, poteva farsi aiutare. Chiamava uno di questi e questi qua, Gli Ushabti, appunto i risponditori, svolgevano i lavori di competenza del defunto nell'aldilà. Tudankhamun era un faraone, quindi Gli Ushabti ne aveva un tot. Ne aveva esattamente 413. Erano 365 operai, uno per ogni giorno dell'anno, 36 capi, uno ogni 10 operaio, 12 supervisori, uno ogni mese dell'anno, e un sovrano, un sovrano. Quindi ne aveva tanti. Sono di tanti materiali. Questi sono quelli di legno. Sono i più belli di tutti. Vanno dai 50 ai 60 centimetri. E sono dei piccoli capolavori. Questi qua li ho messi picciolini. Adesso però ve li ingrandisco. Ecco, guardate. E naturalmente Tudankhamun è sempre un trato molto bello. Deve essere stato anche bello come fattezze. Un po' idealizzato, probabilmente come suo nonno, come Mellottep Terzo. In ogni caso, eccolo qua. Oggetti fatti di legno, che il legno era un materiale poco utilizzato, perché non ce n'è in Egitto. C'è la caccia, ma è un legno duro, che si presta male alla lavorazione, la palma non ne parliamo. Quindi era tutto legno importato. Però riuscivano a lavorarlo piuttosto bene. Ecco, dicevo, materiali diversi. In questo caso, queste sono le altezze da 16 a 25 centimetri, da 16,4 a 26,2 centimetri, come dimensioni. E sono di materiali i più vari. La faiansca è una ceramica, il calcare, il legno, legno dipinto, legno nudo, senza solo con una vernice protettiva, legno dorato, legno ancora. Tutti portano l'iscrizione, naturalmente con il nome del faraone, e qualche formula. I usciabti normalmente portano tutta una serie di formule che servono proprio per svolgere bene i lavori, qui chiamato il defunto, nella di là. Una parola va spesa sui vasi canopi. I vasi canopi, abbiamo detto, erano i quattro contenitori in cui venivano messi gli organi interni del defunto, polmoni, stomaco, fegato e intestino. Naturalmente erano, contenuti in un santuario, quindi qui lì troviamo un grande baldacchino sotto un santuario protetto dalle quattro divinità Selkite, Neite, Isile, Nefti, Selkite e Neite, che erano, e dentro questo santuario protetto dalle divinità, vediamo, credo di aver messo una faccia, sì, ecco, questa è Selkite, con lo scorpione sulla testa, ogni divinità aveva sopra la testa il proprio simbolo, in questo caso lo scorpione. Quindi abbiamo un baldacchino, poi sotto il baldacchino, sulla stessa slitta, il santuario. dentro il santuario la scatola, che in questo caso è di alabastro, coperta da un drappo di lino, la scatola dei canopi. La scatola, la cassa dei canopi è divisa in quattro comparti, quattro sono gli organi interni da conservare, e in questo caso abbiamo visto che il coperchio dei canopi era normalmente, all'inizio no, all'inizio erano quattro teste umane, poi c'è stata una evoluzione, quindi abbiamo testa di falco, testa di cane, testa umana e testa di babuina. In questo caso sono quattro teste femminili e qua agli angoli della cassa dei canopi abbiamo le quattro divinità, Isite, Neftis, Selkite, Neite e il coperchio rappresentato da questi visi femminili che sono di una bellezza, di una fattura squisita, di alabastro. Dentro i vasi ci sono quattro piccoli sarcofagi che sono una riproduzione esatta del terzo sarcofago antropamorfo che speriamo di fare in tempo a vedere, se no qua mi ammazzano, dobbiamo vederlo, è una delle cose più importanti, ecco, e ogni uno di questi piccoli sarcofagi aveva una formula di protezione qui scritta sul davanti, quindi la diversità fra queste piccole copie di questi piccoli sarcofagi e il terzo antropamorfo che vedremo più avanti è questa banda che nel sarcofago grande non c'è. Qui vedete ogni divinità pronunciava delle parole di protezione cingo con le mie braccia ciò che è dentro di me proteggo Duamutef Duamutef è la divinità uno dei quattro figli di Horus che è il protettore dello stomaco quindi dicendo proteggo Duamutef Nate diceva proteggo lo stomaco e questo vale per tutti gli altri dopo la formula Jed Medouin che è la formula parole dette da qua si vede meglio ecco parole dette da Nate questo è il simbolo di Nate la tecnica si chiama cloisoné cloisoné vuol dire che venivano ricavati nell'oro che era il materiale di base di questi piccoli sarcofagi degli alloggiamenti in cui veniva esattamente messo il pezzo ricavato e sagomato per stare esattamente in quel posto un lavoro incredibile entriamo nella camera funeraria abbiamo visto che da qua dall'anticamera si entra nella camera funeraria e nella camera funeraria che è l'unico ambiente decorato della tomba si trovavano dopo queste due statue che rappresentano il Ka di Tuan Kaman che sono sostanzialmente identiche cambia il copricapo il Kayat e il Nemes all'interno della camera sepolcaria l'unica stanza decorata della tomba sono rappresentate poche cose abbiamo detto che le tombe di faraoni normalmente riportavano i libri funerari qui ci sono solo quattro pareti affrescate e i libri funerari e l'incontro con le divinità qui abbiamo un po' di tutto naturalmente pochissimo ma un po' di tutto sulla parete est inizia con il corteo funebre vi ricordate il corteo funebre che vi ho fatto vedere l'altra volta è molto più ricco di questo qui si limita ai colleghi a dei funzionari di alto rango che trainano la slitta in cui ci sono i catafalchi i sarcofagi di Tancamo naturalmente protetti come sempre da iside dalla parte popiera ai piedi e da neftis sua sorella vedete il simbolo diverso a prua sulla parete nord questa è forse la più importante delle pareti affrescate abbiamo la cerimonia dell'apertura della bocca quella che ho fatto vedere l'altra volta si operava davanti alla tomba normalmente era il sacerdote Sam che faceva questa operazione ed era il figlio il figlio del defunto in questo caso Tancamo non aveva figli e ad operare questa apertura della bocca è Ai il suo successore quindi che viene chiamato in altri casi padre divino vedete che è già vestito da faraone quindi qui Ai probabilmente ha cercato anche una legittimazione a quello che sarebbe successo dopo cioè la sessione di Tancamo nella prima parte Tancamo era presentato come un osiride poi invece come un vivente naturalmente non è un vivente vivo ma è un vivente nell'aldilà quindi è un già un incontra Nut e poi incontra osiride e qui accompagnato dalla sua anima dal suo Ka questo è il simbolo del Ka ecco vedete qui l'apertura della bocca il sacerdote Sem con la pelle di Pantera e qui vedete che c'è già ci sono già i cartigli con i nomi di Ai come faraone e qui l'incontro con osiride sulla parete di fronte opposta c'è ancora un incontro con le divinità e quindi ancora con Hathor come come dea dell'occidente qui vedete il simbolo di Hathor e qui il simbolo dell'occidente sulla sua testa accompagnato da Nubi qui hanno dovuto fare un buco per portare fuori la roba e su questa parte era rappresentata Iside e tre divinità non va più giù ma qua c'è il mouse che mi fa impazzire allora andiamo solo con questo non vuole più andare giù vabbè se non va giù ma guarda se non va giù io non riesco ad andare avanti con le diapositive vediamo se andiamo avanti con queste ecco sulla parete ovest come mai non va giù questo qua e sulla parete ovest era rappresentata la prima parte del libro dell'Anduat con i dodici babù guarda che piccolo inconveniente in quello spazio è un gusto quindi siamo nella nella camera funeraria sono sei metri per quattro sei metri per quattro con neanche quattro metri di altezza troviamo quattro santuari con all'interno i quattro sarcofagi vedete i santuari sono questi questi qua non sono quelli originali è una mostra che abbiamo fatto a Parigi però dà esattamente l'idea io ho visto un'anticipazione del salone dove saranno esposti questi santuari al Grand Ecipient Museum e saranno esposti così quindi verrà data loro la massima enfasi questo è il primo hanno forme dei santuari rituali del nord e del sud vedete che questo è circondato da tutta una serie di niente devo arrendermi questo qua non vuol più non vuol più andare giù niente va beh e vediamo un po' questo è il secondo il terzo non ce l'ho ma comunque il terzo è uguale al secondo un po' più piccolo logicamente e questi hanno su legno dorato tutti le rappresentazioni di tutti i libri sacri all'interno dell'ultimo santuario del quarto santuario ah intanto vediamo se qui ho messo le misure sì ecco vi ricordate la camera funeraria è 6 metri il santuario è 5 metri quindi ai lati per 4 metri 3,28 quindi ai lati restavano neanche mezzo metro che girava tutto intorno al santuario quindi erano era tutto ammassato tutto ammassato protetti dall'ultimo protetti dai santuari all'interno dell'ultimo santuario si trovava il sarcofogo di quarzite vediamo eccolo qua che conteneva a sua volta tre santuari antropomorfi quindi a forma di a forma umana il santuario di quarzite rossa è l'unica roba che rimane al suo posto nella tomba fino a poco tempo fa all'interno di questo sarcofogo di quarzite c'era il primo dei sarcofagi antropomorfi quello di legno adesso anche questo è stato portato via è stato portato al gem grande gpn museum e lo stanno restaurando bisogna anche di un intervento abbastanza importante il primo sarcofago è piuttosto bruttino e d'altra parte nessuno l'ha mai visto bene perché era contenuto là dentro nel sarcofago di quarzite con un vetro sopra quindi questa è la fotografia non è una fotografia del sarcofago ma una fotografia di una copia comunque fatto così il secondo sarcofago invece che era esposto al museo del Cairo è di legno placato con lastre d'oro spesso alcune millimetri quindi un supporto d'oro piuttosto importante non è forse più prezioso ma è sicuramente quello che ha la lavorazione migliore vedete ecco l'intasio è realizzato come nelle piccole copie che abbiamo già visto quelli che erano dentro nella cassa dei canopi con la tecnica cloisoné e il motivo che cerchiamo di richiamare con queste decorazioni è il piumaggio degli uccelli il motivo decorativo è chiamato Rishi e richiama il piumaggio degli uccelli vedete che nulla è lasciato al caso i tenoni qui che sono quelli che si incastrano nella mortasa della parte bassa del sarcofago sono di metallo ma su ciascuno ecco vedete qua su ciascuno c'è il nome di Tancamon cioè niente veniva lasciato così al caso veniva trattato in maniera superficiale questo è il bellissimo volto di questo di questo terzo sarcofago e di questo secondo sarcofago antropomorfo il terzo è quello di oro massiccio terzo sarcofago intendiamo antropomorfo perché il primo sarebbe quello di pietra poi c'è quello di legno dorato poi c'è quello placato oro e poi c'è quello d'oro massiccio pesa più di un quintale 110 kg di oro massiccio lavorato anche questo in maniera molto fine con tutta una serie di formule specialmente qui sulle pediere c'è una grande sulla parte dei piedi c'è un grande una grande invocazione a Iside che Iside era posizionata sempre dalla parte dei piedi e questo è il volto di questo di questo sarcofago vedete che è bellissimo anche questo volto qua non è che sia ecco e quello della maschera vabbè la maschera è là per conto suo e quindi chiaramente attira l'attenzione però se guardiamo i volti questo diciamo che non ha gli occhi che sono molto espressivi vabbè e naturalmente impugna il il flaggello e il pastorale il pastorale il flaggello il pastorale con la sinistra e il flaggello con la destra ecco ed è protetto dalle due divinità vedete qui la dea avvoltoio e dall'altra parte c'è la dea cobra quindi le due divinità tutelari dell'Egitto dell'Alto e del Basso Egitto come ho detto sempre questi rapaci hanno il nelle zampe nella nel è la zampa quella dell'uccello il simbolo Shen quindi il simbolo del tempo il farone porta la barba posticcia curva che è propria delle persone morte o delle divinità e sopra il capo sopra il capo porta i due simboli il cobra e il lavoltoio non sono quello che portava il faraone vivente il faraone vivente aveva solo il cobra va bene protettivo l'ureo in questo caso sono simboli che vengono utilizzati solo nel caso di rappresentazioni funerarie questa è la famosa maschera che era infilata sulla testa e sulle spalle perché questo appoggiava sulle spalle quindi copriva una parte del busto ed è anche questo d'aromassiccio con pietre con pietre dure lapislazio di pietre dure pasta vitrea quegli accostamenti che dovevano dare il massimo risultato e e gli occhi molto 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 espressivi gli egizi erano convinti che parlare di una persona defunta pronunciandone il nome fosse un modo per tenerla in vita se così è noi abbiamo fatto rivivere con noi per un po' di tempo il faraone bambino pace e amore etep la nerut sarebbe letteralmente pace e amore può anche togliere ma pace sì etep salute per sempre eccetera quindi comunque un augurio di buona salute che io mi sento di fare a voi sperando di rivedervi tutti l'anno prossimo tutti quanti insieme io il vaccino l'ho fatto spero che possiate farlo anche voi in breve tempo e con questo sentirci un po' più tranquilli che non vuol dire come diceva un'amica via col vento via col vento no via col vento bisogna stare molto tranquilli e molto controllati lo stesso ma avremo qualche possibilità di portarla fuori arrivederci a tutti e statemi bene per l'anima per l'anima